Ciao a tutti e bentornati in Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi. Grazie mille innanzitutto per la calorosissima accoglienza che mi avete fatto con la prima puntata di quest'anno, davvero grazie grazie, grazie mille. Ma adesso non ci perdiamo in chiacchiere, perché? Perché questa puntata pullola di argomenti. Le cose di cui parleremo sono davvero tantissime, ma iniziamo prima con lei, vale a dire la sigla. Il primo argomento di cui parleremo quest'oggi è un argomento che spesso ci richiedete in chat, vale a dire l'argomento social. Allora, partiamo proprio dalle basi, vale a dire come pubblicare su Facebook, come pubblicare e condividere i vostri progetti anche su Instagram. Allora, andiamo per gradi. Iniziamo da Facebook, è davvero molto semplice. Dovete andare sulla nostra pagina Facebook, meglio di Maya, cliccare su Crea Post, inserire la descrizione della vostra creazione. Mi raccomando, più indicazioni scrivete riguardo come avete realizzato la vostra creazione, i prodotti che avete utilizzato, quanto più siete dettagliate e più sicuramente verrà apprezzato anche il vostro lavoro e potrete anche ricevere maggior riscontro e magari potreste ottenere anche più mi piace e di conseguenza essere magari la foto più cliccata con più mi piace del mese. Inserire quindi questa descrizione, caricare la vostra foto e poi cliccare su pubblica su Facebook. That's it, nient'altro. Passiamo invece a Instagram. Su Instagram è altrettanto semplice. Cliccate sulla vostra icona come per pubblicare una storia, quindi cliccate su quel meraviglioso più, caricate la vostra foto, descrivete, raggiungete le canzoni, le gif, tutto ciò che preferite. Semplicemente l'unica accortezza prima di condividerla è taggarci e quindi cliccare su chiocciola Tessiland. E poi in automatico noi riceveremo la notifica che avrete condiviso appunto questo progetto e potremo di conseguenza ricondividerlo. Fatelo mi raccomando perché vediamo tantissime creazioni che ci inviate a volte anche privatamente su WhatsApp o di cui ci parlate anche al telefono che meritano di essere viste perché sappiamo perfettamente tutto il grande lavoro che c'è dietro al handmade. Quindi condividete i vostri progetti perché è un bel modo per condividere la creatività. Ma continuiamo con i social. Avete apprezzato tantissimo i video che stiamo pubblicando. Abbiamo pensato ad un nuovo metodo perché come sapete Tessiland pensa sempre alle sue clienti e cerca in tutti i modi di essere sempre più performante. E abbiamo pensato tramite i vari social, vada a dire meglio di mai e quindi Facebook ma anche Instagram, Pinterest e TikTok e ovviamente YouTube. Abbiamo pensato tramite tutti i nostri social di condividere delle informazioni, di dare delle nuove idee o a volte come avete potuto vedere anche di dedicarvi pochi secondi di divertimento perché crediamo sia importante regalare anche un sorriso. E abbiamo visto che tutto questo lavoro è stato apprezzato da voi quindi continuiamo a farlo. Ovviamente se ci sono suggerimenti scrivetelo qui nei commenti sotto questo video e sarà nostra premura tenerne conto e cercare di realizzare qualcosa nei prossimi video. Ma soprattutto altra cosa molto importante in particolare su TikTok vi consigliamo di visualizzare i video e di commentare. Perché? Perché lì possiamo rispondervi direttamente con un video. Quindi se ci chiedete qualche informazione, qualche abbinamento su un articolo che avete visto possiamo rispondervi tramite un video e sicuramente essere più osiorienti di una risposta semplicemente scritta. Adesso però parliamo di un altro argomento, vale a dire i riassortimenti. Come sapete sicuramente il modo migliore o meglio l'informazione più giusta che possiamo darvi è contattando il nostro servizio di assistenza che sia tramite whatsapp, la chat, la mail o anche telefonicamente e chiederci direttamente quando verrà riassortito l'articolo a cui siete interessate. Ma vi do comunque qualche anticipo. Berry in riassortimento. Lo so, mancano tantissimi colori, non temete. Arriveranno. Così come il bravissimo Batik Pan. Lo sappiamo ovviamente che manca e verrà riassortito. Ci vorrà un po' di più ma credetemi stiamo facendo il nostro meglio affinché possa tornare davvero il prima possibile. In ogni caso, come sapete, se non lo sapete ve lo ribadisco, per tutti gli articoli che vedete sul sito ma che hanno la disponibilità pari a zero potete attivare il servizio avvisami quando disponibile. Cliccando quindi sull'articolo, inserendo il vostro indirizzo mail, cliccando sul tasto appunto avvisami quando disponibile riceverete una mail non appena l'articolo verrà riassortito. Ma parlando di riassortimenti, parliamo sia degli articoli terminati e che poi ritorneranno nuovamente sul nostro sito, ma parliamo anche di colori nuovi. Ebbene sì, come potete vedere, soprattutto per quanto riguarda i filati per borsa, ci sono ogni volta tanti nuovi colori, soprattutto in filati quali Tai Lurex, Tai Sublime, Tai Sublime Lux, il Ternes. Presto arriveranno nuovi colori anche per il Ternes, ma non temete, avrete modo di analizzarli nel dettaglio in un news che uscirà prossimamente. Così come c'è l'introduzione anche di tanti nuovi articoli, in particolare sul Diamond DMC. Questo filato utilissimo perché davvero molto versatile, ideato proprio per ricamo a mano e punto croce, ma anche bigiotteria. E come sapete, per quanto riguarda l'angolo bigiotteria, ci si può davvero divertire. Sul nostro catalogo. È morbido, è flessibile, è luminoso ed è davvero quindi perfetto per qualsiasi creazione che vorrete fare. Anche per la tecnica chiacchierino, il macramé, per i gioielli, insomma ce ne sono di diverse varianti. Quindi non vi resta che scegliere il colore adatto a voi. Come sapete però potrete essere costantemente aggiornati su tutti i nuovi prodotti che ci sono sul nostro sito. Semplicemente scorrendo una delle qualsiasi pagine fino alla fine, arrivando alla voce informazioni e cliccando su nuovi prodotti. Fatelo di tanto in tanto perché così potete vedere tutti i prodotti che ogni volta arrivano sul nostro catalogo. E credetemi sono sempre tantissimi. Ma a proposito di novità parliamo anche della newsletter. Siete ormai appassionate, controllate la vostra mail, avete imparato questa cosa? Controllate finalmente la vostra posta elettronica e ricevete la vostra mail. Infatti come avete visto ultimamente periodicamente Tessiland invia questa newsletter. Che cos'è? Una mail nel quale viene spiegato dettagliatamente l'articolo in promozione, la mystery box o comunque la promozione cui potrete usufruire. Se adoperate il codice che viene posto all'interno della mail. Leggetela attentamente. Questo è il primo consiglio probabilmente più importante che posso darvi. Perché nella mail c'è sempre scritto su cosa verte la promozione, qual è il codice, la validità, eventualmente quale sconto viene applicato o comunque su quale articolo. Quindi leggete attentamente la mail. E badate bene anche ad esaurimento scorte perché molte volte, soprattutto ad esempio nell'ultima mail, veniva appunto specificato che questa promozione era valida fino ad esaurimento scorte. Ma è una cosa di cui potete rendervi tranquillamente conto da sole. Nel senso che se inserite il codice sconto e vedete che non viene applicato nulla, vuol dire che semplicemente la promozione è terminata perché appunto le scorte sono finite. Adesso alla parte importante, vale a dire ricevete questo codice sconto, state per effettuare l'ordine, come utilizzarlo al meglio? È davvero molto semplice. Dopo aver effettuato l'accesso al vostro account, inserito i prodotti nel carrello, prima di concluderlo dovrete inserire il codice nell'apposito riquadro con su scritto codice promo. Eccolo qui e cliccare su aggiungi. In questo modo vedrete che in automatico dal totale verrà applicato lo sconto oppure verrà inserita la mystery box o comunque vedrete una nota che vi comunicherà che lo sconto è stato applicato ed è stato applicato correttamente e che cosa insomma avete ricevuto in cambio. Successivamente quindi poi non vi rimane altro che concludere il vostro ordine. Se poi ovviamente avete difficoltà lo sapete, chiamate noi dell'assistenza ed è sempre un piacere per noi aiutarvi. Siamo addirittura da arrivo, non prima però di aver parlato di un articolo del blog, come sapete blog molto importante che piano piano stiamo arricchendo sempre di più, articolo che vi è stato davvero molto utile, che però secondo me in tante non conoscono ma nel momento in cui lo leggerete avrete svoltato come si suol dire. Quanto sarebbe bello avere una lista completa di tutti i filati che ci sono sul nostro sito, quanto sarebbe bello otterne leggere la descrizione e ancora di più vederne i tutorial nei quali è stato utilizzato. Bellissimo no? C'è stato un grande lavoro dietro ma vediamo insomma ecco che ne è valsa la pena, ne stiamo raccogliendo adesso i frutti perché lo state apprezzando davvero in tantissime. Infatti cliccando sul nostro blog potrete leggere quest'articolo nel quale vi è la lista di tutti i filati, cliccando sul nome in automatico andrete su quel filato e scorrendo oltretutto la pagina potrete vedere i vari tutorial nei quali è stato utilizzato. Quindi davvero è il modo più sicuro e più completo che possiate avere per effettuare un ordine. Capiamo perfettamente che effettuare l'ordine online possa sempre portare un po' di scetticismo perché non si sa esattamente che cosa si sta acquistando. Ma Tessiland con articoli come questo, con la descrizione, i tutorial e tutte le informazioni che potete trovare all'interno di ogni singolo articolo fa davvero in modo che possiate acquistare in piena consapevolezza. Leggetelo e vedrete che poi avrete sicuramente un'idea più chiara di tutti i prodotti che ci sono e piano piano stiamo cercando di farlo anche per altri articoli. E la puntata di Tessiland con Division si conclude qui. Ve l'avevo detto che era una puntata ricchissima di tante informazioni che sappiamo essere utili perché ce le chiedete spessissimo in assistenza e come sapete ciò che per voi è importante lo è anzi probabilmente anche di più per noi. Come l'abbiamo detto all'inizio ma lo ribadiamo, seguiteci su tutti i nostri social, su YouTube attivate la campanella per essere costantemente aggiornati su tutti i nostri video, i nostri news, tutti i nostri condivision, tutti i nostri come fare, i vari video, anche gli shorts che vengono pubblicati su questo canale. Ma seguiteci anche sugli altri social, vale a dire Facebook e quindi la pagina Meglio di Maya, ma anche Instagram, Pinterest e TikTok. E a tal proposito prestate molta attenzione soprattutto al canale YouTube, anche se probabilmente lo annunceremo anche sugli altri social, perché in arrivo un sondaggio molto importante che vi consiglio di non perdervi perché cerco di anticiparvi qualcosa senza svelare troppo. È un sondaggio nel quale sarete voi a decidere le sorti di un nuovo percorso che Tessiland vorrebbe fare, però non posso svelarvi di più. Ma vi consiglio vivamente di seguirci sui vari social e in particolare su YouTube perché sarà proprio qui che inseriremo questo sondaggio e sarete proprio voi a decidere. E credetemi, ci divertiremo parecchio perché potremo interagire ancora di più, sarà davvero insomma molto bello. Detto ciò, concludo, mi piace chiacchierare tantissime volte anche troppo. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per averci seguito. Tutti i link dei prodotti di cui abbiamo parlato quest'oggi potrete trovarli qui nel box informazioni. Commentate come se non ci fossero domani, noi saremo ben lieti di rispondere. A volte se non vedete la risposta pronta vuol dire che comunque siamo impegnati, ma che appena possibile vi risponderemo perché è un vero piacere farlo e soprattutto perché apprezziamo, in particolare io, ogni singolo commento. Basta, noi ci vediamo alla prossima puntata, tra due settimane, sempre qui su YouTube, sempre alle 15, sempre su Testi Lan Condivision e sempre io. Alla prossima, ciao!